Grazie a voi. Allora, mentre salivo ho sentito che Flavio ha corretto una mancanza dell'inizio, che non era stato ringraziato adeguatamente chi ci ospita. Avevi solo decantato le meraviglie del posto, bisogna ringraziare chi ci ospita. Vedete che ogni anno Andrea puntualizza e correggono i maestri, quindi non si smette di imparare, no? No, ma in realtà, diciamo, sono tornato a questo discorso iniziale di Flavio perché mi ha colpito che appunto questo luogo, che ha una lunghissima storia, in qualche modo rappresentava, ha rappresentato e ancora rappresenta un desiderio delle persone di incontrarsi, di stare assieme. Ad esempio, si diceva che la cultura per poter ascoltare la musica, per potersi confrontare con tante idee importanti, la gente si trovava assieme e oggi invece queste tensioni di unità, di vicinanza, sono un po' diminuite. Ecco, purtroppo noi vediamo nel mondo che non c'è tanto questa idea di stare assieme, di essere vicini, di fare dei percorsi di amicizia, di conoscenza assieme agli altri. Anzi, purtroppo, vediamo che ci sono delle tensioni che portano a dividersi, ad allontanarsi ed è un problema molto grave questo. È un problema che noi tocchiamo ogni giorno con le nostre mani, anche, come dicevano adesso, anche la... Fressiano, ma io mi riferivo alla rappresentante della Prefettura, la dottoressa Corsaro, che spiegava di queste sofferenze che sono in giro per il mondo, in tanti paesi dove si vive con difficoltà, ma noi le tocchiamo anche qua perché queste persone, purtroppo, come diceva Fresa, sono costrette ad andarsene e quindi arrivano qua da noi e noi incontriamo tutti i giorni queste sofferenze e il rischio è quello di non volerle incontrare, di non volerle conoscere, di non voler stare vicino a queste sofferenze. Invece la Scuola di Italiano, oltre a tutte le cose bellissime che avete detto voi, rappresenta anche questa idea, questa tensione della comunità di Sant'Egidio di incontrare e di conoscere tutte le persone che vivono nella nostra città e di incontrare e conoscere le loro difficoltà, le loro sofferenze. Non si costruisce la pace, ma vorrei dire neppure la propria felicità stando per conto proprio. Non esiste questa idea, purtroppo è coltivata da tante persone, ma mi spiace rimarranno delusi perché la felicità si costruisce assieme agli altri. Ecco, quindi noi viviamo oggi in un mondo che proprio a causa di queste tensioni che allontanano gli uni dagli altri diventa un mondo quasi incomprensibile che si fa fatica a capire dove sta andando il nostro mondo, quali saranno le prospettive per il nostro futuro. Una cosa che lascia sconcertati perché davvero un po' perché siamo poco intelligenti oppure poco informati, ma anche se ci informiamo e usiamo bene la nostra intelligenza ci rendiamo conto che è difficile capire un mondo come il nostro e non si capisce dove ci porterà questa epoca così difficile che stiamo vivendo. E allora, ecco, io direi la comunità di Sant'Egidio è impegnata in questo senso in tantissime direzioni, dalla trattativa per la pace all'aiuto di tante persone che soffrono in varie parti del mondo, ma la scuola di italiano qua a Genova e in tante parti d'Italia ed Europa, in altri paesi sarà la scuola di francese, di spagnolo e via dicendo, però rappresenta molto bene questa intenzione ampia e grande della comunità che è quella di puntare alla vicinanza, all'unità, all'amicizia, all'incontro tra le persone. E questo io credo che sia giusto sottolinearlo perché penso che sia necessario non solo, voglio fare anche una proposta ecco adesso, sia necessario non solo venire alla comunità di Sant'Egidio per imparare la lingua, per essere aiutati, ma bisogna anche aiutare alla comunità di Sant'Egidio. Come possiamo? Perché in un mondo come quello che ho spiegato una cosa molto importante è quella di non essere soli ma essere uniti. Se siamo soli siamo sconfitti, se siamo assieme veramente riusciamo a fare tante cose. Ecco, allora grazie delle cose che ho ascoltato che mi hanno anche aiutato a comprendere ancora di più l'importanza della scuola e soprattutto mi convinco sempre di più che è necessario essere assieme perché un mondo come il nostro ha bisogno di gente che non è chiusa ma che è amica, che sta bene assieme e che ha tante cose e la capacità di dirlo in maniera molto chiara come è stato detto anche oggi. Grazie.